La descrizione della capacità descrittiva che ha Simonetta, c'è un bellissimo racconto del viaggio che fanno Marietta e suo marito e il bimbetto quando devono andare a Venezia perché il bambino è ammalato. E quindi c'è questa riscoperta anche della coppia, perché ne scoprono Venezia bellissima, mangiano un paro di castagne o qualcosa del genere, qualcosa che si sono portati via, però è come se si ritrovassero, mentre a casa loro appunto c'è la suocera, i bambini, le responsabilità schiaccianti di quel periodo per ogni donna e a loro è sembrata come una vacanza portare comunque quel bambino e quindi ci sono anche lì le descrizioni appunto di Venezia che fanno proprio guardare e vedere quello che loro devono aver visto e quindi così voglio dire la capacità è una cosa che accompagna molto la capacità descrittiva.